Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso che avverterà su interazione ruota-strada e condizioni di rotolamento. Gli argomenti che affronteremo sono aderenza ed equilibrio dinamico della ruota. Partiamo con l'aderenza. Il moto di un veicolo e il livello di sicurezza con cui avviene sono assicurati dallo scambio di forze al contatto tra lo pneumatico e la superficie stradale. Questo scambio di forze si traduce in termini di aderenza. Si parla più propriamente, infatti, di forza di aderenza. Quella che vedete raffigurata è una rappresentazione schematica di una ruota in movimento, sulla quale agiscono diverse forze. Voglio focalizzare la vostra attenzione per il momento sulla forza indicata con la lettera A, che agisce in corrispondenza del punto di contatto tra il pneumatico e la superficie stradale ed ha direzione parallela alla superficie stradale stessa. Questa forza, chiamata appunto forza di aderenza, ha un modulo che è dato dal prodotto di due fattori. Come si evince dalla formula rappresentata in figura, infatti, il modulo della forza di aderenza può essere espresso come prodotto di un coefficiente F A, chiamato coefficiente di aderenza, e di una forza P con A. Questa forza P con A agisce verticalmente e in particolare in direzione normale alla superficie di rotolamento e prende il nome di peso aderente. L'aderenza è una grandezza che assume un ruolo fondamentale nella sicurezza della circolazione dei veicoli. Infatti, la capacità di governare e controllare il veicolo in tutte le condizioni di moto dipendono direttamente dall'aderenza. Il livello di aderenza offerto dalla superficie stradale al moto è condizione essenziale per realizzare le varie manovre necessarie al moto stesso dei veicoli. Come vedremo, il coefficiente di aderenza entra in gioco, in particolare nel calcolo degli spazi di frenatura e entra in gioco anche nell'equilibrio dinamico del veicolo in curva. L'aderenza, per esplicarsi, necessita di uno scorrimento relativo tra ruota e strada. Si verifica in particolare che il prodotto tra la velocità angolare e il raggio di una ruota in moto sulla superficie stradale eccede la velocità con cui la ruota avanza longitudinalmente. In particolare, il valore V che compare in questa formula si riferisce al centro della ruota che avanza lungo la superficie stradale. In condizioni di puro rotolamento, queste due grandezze sono uguali. Ma nella realtà ciò non avviene e appunto l'esplicarsi di uno scorrimento è essenziale affinché l'aderenza stessa possa esplicarsi e con esso il moto. Ciò si verifica perché avanzando lungo la superficie stradale, la ruota subisce delle deformazioni che non sono omogenee lungo la ruota stessa. In particolare, possiamo distinguere la parte frontale del pneumatico da quella retrostante. Nella parte frontale, per effetto stesso del moto, le fibre del pneumatico risultano compresse. Situazione opposta, invece, si verifica per la parte retrostante del pneumatico. E quindi questa disomogeneità è all'origine della deformazione del pneumatico che a sua volta è all'origine dello scorrimento relativo. Ora, tornando all'immagine, possiamo dare una definizione quantitativa dello scorrimento, indicato usualmente con la lettera greca ψ. In particolare, considerando la velocità angolare ωr e il raggio della ruota e v, come definita prima, la velocità di avanzamento del centro della ruota, definiamo lo scorrimento come il rapporto tra ωr per il raggio meno la velocità diviso ωr per il raggio. Semplificando e quindi dividendo numeratore e denominatore per la quantità ωr per r, otteniamo la formula che vedete rappresentata in figura, secondo cui lo scorrimento è uguale a 1 meno v diviso ωr per r. Questa formula è valida in particolare nel caso in cui la ruota proceda a velocità costante o in accelerazione. È possibile ricavare la formula che descrive lo scorrimento e ci permette di calcolare lo scorrimento anche in fase di decelerazione. In questo caso la formula cambia leggermente, al numeratore troviamo la differenza tra la velocità e il prodotto tra ωr ed r, e al denominatore troviamo la velocità, semplificando come nel caso precedente, otteniamo il valore di scorrimento nel caso della decelerazione pari a 1 meno ωr per r diviso v. Come abbiamo visto, la forza di aderenza che si esplica al contatto tra pneumatico e superficie stradale dipende da due fattori. Uno dei due fattori è chiamato coefficiente di aderenza e sostanzialmente condiziona il valore massimo di aderenza che è possibile mobilitare durante il moto a parità di peso aderente. Il coefficiente di aderenza è un coefficiente che dipende da tanti fattori. In particolare dipende dalla velocità, dalla natura e stato delle superfici a contatto, dalla presenza di acqua ed impurità, dalla pressione di gonfiaggio. Per quanto riguarda la velocità, possiamo dire in termini generali che il coefficiente di aderenza a parità di ogni altra condizione diminuisce all'aumentare della velocità. Per ciò che attiene all'altro fattore, prima indicato, cioè natura e stato delle superfici a contatto, dobbiamo considerare le caratteristiche delle due superfici a contatto, che sono rispettivamente quelle relative allo pneumatico e quelle relative alla superficie stradale. Per ciò che attiene allo pneumatico, sappiamo che lo stato di usura di un pneumatico, lo spessore del battistrada utile in particolare, svolge un ruolo fondamentale ai fini dell'aderenza. Lo stesso dicasi per la superficie stradale. Una superficie stradale liscia, perché usurata dal traffico che vi è transitato sopra, sicuramente offre livelli di aderenza a parità di ogni altra condizione. Offre, dicevo, livelli di aderenza e quindi livelli di sicurezza sicuramente inferiore rispetto a una superficie stradale dotata di adeguata rugosità. Per quanto riguarda la presenza di acqua e di impurità, senz'altro la loro presenza riduce notevolmente le caratteristiche di aderenza, in quanto l'acqua in particolare forma sulla superficie stradale un film che si frappone, o tende a frapporsi tra la superficie del pneumatico e la superficie stradale, riducendo quindi l'area di contatto asciutto, cosiddetto l'area di contatto utile, e lo stesso dicasi per le impurità che, come noto anche dall'esperienza comune, rendono una superficie stradale particolarmente scivolosa. Un ultimo fattore che abbiamo prima visto riguarda la pressione di gonfiaggio degli pneumatici. Anche questo fattore ha un ruolo importante sulle caratteristiche di aderenza, in quanto condiziona, tra le altre cose, la superficie di effettivo contatto tra pneumatico e strada. Abbiamo detto che il coefficiente di aderenza dipende dal coefficiente di scorrimento. Quindi, a parità delle altre variabili prime indicate, questa grandezza varia al variare dello scorrimento relativo tra pneumatico e superficie stradale. Questa immagine rappresenta questo legame per diversi valori di velocità. Se consideriamo una singola curva, ad esempio quella corrispondente alla velocità di 75 km rari, nell'esempio qui riportato, osserviamo come il coefficiente di aderenza aumenti in una prima fase all'aumentare del coefficiente di scorrimento. Raggiungendo un valore di picco, superato il quale, all'ulteriore crescere del coefficiente di scorrimento, il coefficiente di aderenza decade abbastanza rapidamente per poi raggiungere un valore ultimo finale corrispondente a uno scorrimento del 100%. Le curve hanno un andamento qualitativo simile. Chiaramente, nel passaggio da una velocità all'altra, cambiano i valori assoluti del coefficiente di aderenza sul quale possiamo fare affidamento. Ma tornando all'andamento del coefficiente di aderenza in funzione del coefficiente di scorrimento, possiamo aggiungere ulteriori importanti osservazioni. Innanzitutto, il valore di picco. Si osserva, dall'esperienza, che il valore di picco del coefficiente di aderenza per qualunque valore della velocità lo si raggiunge diciamo in un intervallo del coefficiente di scorrimento compreso tra il 10 e il 15%. Quindi questo è tipicamente il range entro cui, range di valori del coefficiente di scorrimento entro cui si raggiunge il valore di picco del coefficiente di aderenza. Come dicevamo prima, poi superato il picco il coefficiente di aderenza decade fino a raggiungere un valore ultimo corrispondente allo scorrimento del 100%. Ecco, in queste condizioni sostanzialmente il coefficiente di aderenza assume a tutti gli effetti il significato di un coefficiente di attrito. L'aderenza deriva dalla combinazione di alcuni meccanismi quelli principali sono qui elencati l'adesione l'attrito la deformazione della gomma Allora, per quanto riguarda l'adesione questa dipende essenzialmente da forze o da azioni di natura elettrochimica che si instaurano tra le superfici a contatto in questo caso tra il pneumatico e la superficie stradale. Si tratta di azioni di natura elettrochimica riconducibili a forze di Van der Waals e dipendono sostanzialmente dalla affinità tra i materiali costituenti i due corpi a contatto. La gomma, nel caso del pneumatico è conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso nei casi più comuni per ciò che attiene alle pavimentazioni stradali. Il secondo elemento la seconda componente dell'aderenza come l'abbiamo definita prima l'abbiamo già introdotta la componente di attrito che si mobilita proprio in ragione di quello scorrimento che si manifesta tra pneumatico e pavimentazione nel moto di rotolamento del primo sulla seconda e che è condizione essenziale come già più volte ribadito affinché l'aderenza possa esplicarsi e con essa il moto dello pneumatico. La terza componente legata alla deformazione della gomma anche questo aspetto lo abbiamo in parte già prodotto è già introdotto scusate il pneumatico in movimento sulla superficie stradale si deforma per effetto stesso del moto ma possiamo aggiungere si deforma anche in conseguenza delle irregolarità della superficie stradale. In particolare sulla superficie stradale possiamo individuare delle macro asperità diciamo che fanno riferimento alla cosiddetta macro tessitura o macro rugosità che genera anche distorsioni localizzate nel pneumatico. Per effetto di queste deformazioni si innescono meccanismi di isteresi legata alla natura viscoelastica della gomma e di ingranamento meccanico dovuto appunto alle asperità della superficie stradale che costituiscono diciamo la terza principale componente su cui si basa se così possiamo dire l'aderenza. Cerchiamo di dare adesso qualche indicazione in più per ciò che attiene la superficie stradale e come questa influenzi le caratteristiche di aderenza della stessa. In particolare lo stato e la forma della superficie stradale chiamata tessitura influenzano l'aderenza sviluppata all'interfaccia pneumatico superficie stessa. E si fa tradizionalmente riferimento quando si parla di questi argomenti a un'immagine tipo questa che mette in evidenza come la superficie stradale non sia perfettamente liscia e anzi è opportuno che non lo sia. Ma è possibile individuare sulla superficie stradale tutta una serie di irregolarità o di distorsioni altrimenti dette. È possibile inoltre individuare diverse scale relativamente a queste irregolarità o distorsioni. Si parla in termini più propri di tessitura superficiale e si possono individuare a riguardo diverse scale di tessitura. quelle che a noi interessano più da vicino in relazione all'argomento che stiamo trattando sono la microtessitura e la macrotessitura. La microtessitura è attribuibile alla composizione mineralogica degli aggregati mentre la macrotessitura dipende dalle dimensioni e dall'assortimento granulometrico degli aggregati. particolari Detto in altri termini la microtessitura rappresenta la scabrezza superficiale delle singole particelle che emergono dalla superficie stradale mentre la macrotessitura è data dalla distribuzione dimensionale delle particelle che emergono in superficie. entrambe queste caratteristiche microtessitura e macrotessitura hanno un ruolo importante sull'aderenza direi fondamentale soprattutto nelle condizioni più critiche ovvero in presenza d'acqua. Riporto questa immagine giusto per dare un'idea di come le condizioni della superficie su cui viaggia il pneumatico incida fortemente sul coefficiente di aderenza. Questo grafico mette a confronto come potete vedere diverse curve ogni curva è contrassegnata da una lettera alla quale corrisponde una condizione ben precisa. Possiamo osservare come tutti gli andamenti siano qualitativamente simili e analoghi a quelli descritti prima ovvero il coefficiente di aderenza aumenta all'aumentare dello scorrimento fino a raggiungere un valore di picco per poi decadere. Chiaramente ciò che cambia da una condizione all'altra sono i valori massimi del coefficiente di aderenza sui quali possiamo fare affidamento durante il mondo. Giusto un commento per mettere a confronto i casi estremi quelli contrassegnati con la lettera A e la lettera F la lettera A fa riferimento a condizione ottimale di pavimentazione perfettamente asciutta la lettera F fa riferimento invece alla condizione più pericolosa e più gravosa sostanzialmente e cioè quella corrispondente alla presenza sulla superficie stradale di ghiaccio e vi invito anche a osservare le differenze che sussistono in termini di valori massimi quindi nel primo caso abbiamo un valore del coefficiente di aderenza nell'esempio riportato che approssima l'unità il valore massimo si riduce a poco più di 0,10 nel caso invece più penalizzante finora abbiamo parlato di aderenza senza distinguere la direzione in cui l'aderenza agisce ai fini della valutazione della sicurezza della circolazione infatti dobbiamo tenere in considerazione il fatto che l'aderenza viene impegnata sia in direzione longitudinale rispetto al moto sia in direzione trasversale al moto andando sulla slide nel moto di un veicolo l'aderenza è appunto impegnata sia longitudinalmente sia trasversalmente ed è interessante osservare la figura riportata nella slide dalla quale si desume una circostanza che diciamo molto importante ai fini della corretta valutazione delle forze in gioco sullo pneumatico in movimento in particolare ciò che voglio evidenziare è il fatto che la direzione del raggio la direzione del vettore velocità scusate del pneumatico non coincide con l'asse longitudinale del pneumatico qui indicato come asse x ciò determina la formazione di un angolo appunto tra l'asse longitudinale dello pneumatico e la direzione del vettore velocità angolo indicato con la lettera alfa che viene comunemente chiamato angolo di deriva o deriva quindi bisogna tener conto del fatto che durante il moto l'aderenza viene mobilitata anche trasversalmente e ciò per effetto di alcune azioni in rettifilo queste azioni possono essere ricondotte al vento alla presenza di irregolarità sulla superficie di rotolamento della deriva o campanatura delle ruote della pendenza trasversale che la pavimentazione stradale ha anche in rettifilo per garantire il deflusso delle acque meteorie in curva il veicolo per effetto stesso del moto in curva è soggetto a delle azioni trasversali generate dalla forza laterale forza centrifuga che agisce sul veicolo stesso ecco allora che noi possiamo distinguere una componente longitudinale e una componente trasversale dell'aderenza anche con riferimento ai corrispondenti coefficienti e quindi possiamo distinguere un coefficiente di aderenza longitudinale F con L e un coefficiente di aderenza trasversale F con T dalla composizione vettoriale delle forze di aderenza trasversale e longitudinale deriva anche una combinazione tra i corrispondenti coefficienti per cui tornando sulla formula possiamo osservare che la forza di aderenza quindi la sua norma come prima pari come prima visto al prodotto del peso aderente per un coefficiente di aderenza questa forza la possiamo esprimere anche come prodotto del peso aderente per la combinazione per un fattore che tiene conto della combinazione del due coefficienti di aderenza prima introdotti cioè la componente trasversale e longitudinale in particolare il coefficiente di aderenza è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati delle due componenti che come detto più volte agiscono trasversalmente e longitudinalmente al moto entrambi i coefficienti di aderenza quello longitudinale e quello trasversale presentano un valore limite dettato dalle condizioni al contorno e questo è un fatto che dobbiamo tenere in debita considerazione ai fini della corretta valutazione delle condizioni di aderenza e quindi di sicurezza del moto perché le due componenti interagendo tra loro fanno sì che la quota parte di aderenza mobilitabile in una direzione dipende da quella mobilitata o mobilitabile nella direzione ad essa ortogonale questo concetto entra in gioco nella cosiddetta rappresentazione delle due componenti che fa riferimento all'ellisse di aderenza l'impegno di aderenza in una direzione fa diminuire infatti quella disponibile nella direzione ad essa perpendicolare come già evidenziato nell'immagine qui rappresentata sono messi in relazione le due componenti di aderenza effettivamente mobilitate nelle due direzioni che indichiamo con fx ed fy si tratta delle componenti dell'aderenza mobilitate o mobilitabili per ciascuna direzione possiamo identificare per i motivi visti prima un valore massimo sia in senso longitudinale al moto che in senso trasversale la relazione tra le forze di aderenza effettivamente mobilitabili nelle due direzioni sono legate tra loro in rapporto al valore massimo di aderenza teorico che è possibile esplicare in una direzione o nell'altra questo legame può essere espresso attraverso un'equazione di questo tipo in cui f con y è la forza di aderenza mobilitata o mobilitabile in senso trasversale al moto fx ha lo stesso significato di quella precedente ma in senso longitudinale f y alfa ed fx massimo sono i valori limite diciamo associati alle due direzioni questa equazione esprime da un punto di vista geometrico un'ellisse ed ecco allora che si parla appunto di ellisse di aderenza ribadisco la cosa importante da considerare è che nel momento in cui noi impegniamo una certa quota di aderenza in una direzione la quota di aderenza mobilitabile quindi disponibile su cui possiamo fare affidamento nella direzione ortogonale è condizionata dalla prima al termine di questo primo argomento vi lascio uno spunto di riflessione in particolare vi chiedo di derivare la forza di aderenza mobilitabile in senso trasversale per un pneumatico in moto su un piano viabile noto il coefficiente di aderenza f con a e il coefficiente di aderenza longitudinale f con l passiamo adesso al secondo argomento inerente l'equilibrio dinamico della ruota la progettazione stradale si basa su una serie di equazioni relative al moto nelle varie condizioni e relative queste equazioni all'equilibrio dinamico del veicolo in movimento sulla strada è necessario quindi conoscere queste equazioni per orientare correttamente la progettazione e derivare delle regole e dei criteri appunto di progettazione che consentano di attribuire ad ogni elemento del tracciato stradale le corrette caratteristiche geometriche è necessario partire per tutte le analisi successive dalla ruota e dalle condizioni di equilibrio dinamico della ruota stessa possiamo introdurre questo argomento introducendo il moto di rotolamento il quale risulta dalla composizione del moto di rotazione intorno all'asse della ruota e dalla traslazione dell'asse parallelamente al piano viabile l'immagine che vedete proiettata mostra una generica ruota in movimento sulla superficie stradale con una certa velocità v la velocità v che compete al centro della ruota e corrisponde in buona sostanza alla velocità con cui il centro della ruota avanza parallelamente alla superficie stradale la ruota ovviamente rotola e quindi possiamo definire una velocità angolare e e quindi diciamo sulla base di questo schema possiamo scomporre il movimento in due moti componenti il moto di traslazione della ruota a cui si aggiunge il moto di rotazione in ogni istante il punto C punto di contatto tra pneumatico e pavimentazione risulta fermo quindi adesso è attribuita una velocità nulla e infatti si parla propriamente di centro istantaneo di rotazione su un generico veicolo possiamo distinguere diversi tipi di asse in particolare assi motori e assi trainati le corrispondenti ruote interagiscono in modo differente con la superficie di rotolamento e di questo dobbiamo tener conto per derivare le equazioni fondamentali che stanno alla base dell'equilibrio dinamico della ruota preliminarmente alle considerazioni che faremo in relazione agli schemi che vi proietterò più avanti è opportuno definire una relazione fondamentale tra alcune azioni che agiscono sulla ruota mi riferisco in particolare alla ruota motrice sulla quale agisce una coppia motrice qui indicata con M con R coppia motrice generata dalla potenza disponibile alle ruote e trasmessa attraverso gli organi di trasmissione dal motore il rapporto tra la coppia motrice e il raggio della ruota da luogo a una forza che chiamiamo forza di trazione la forza di trazione quindi come detto la possiamo esprimere come rapporto tra la coppia motrice disponibile alle ruote e il raggio della ruota e possiamo anche esprimerla come rapporto tra la potenza disponibile alle ruote e la velocità di avanzamento delle ruote stesse passiamo quindi a esaminare le forze che agiscono sulla ruota motrice abbiamo oltre alla coppia motrice già introdotta abbiamo la forza di aderenza A che abbiamo già conosciuto e che agisce sul punto di contatto tra pneumatico e pavimentazione e abbiamo poi un insieme di forze che si intendono applicate al centro della ruota queste forze sono indicate con le lettere R I ed M con A su R e rappresentano nell'ordine le resistenze al moto l'inerzia nel caso in cui il moto sia contraddistinto da variazioni di velocità e dalla coppia di attrito ai perni sulla ruota agisce anche quel peso aderente che abbiamo prima introdotto forza che agisce verticalmente e in direzione ortogonale alla superficie stradale a seconda dei valori relativi delle forze in gioco si possono presentare diversi casi qui riassunti il primo caso si verifica quando la forza di trazione legata alla coppia motrice è contemporaneamente inferiore alle resistenze al moto e inferiore alla forza di aderenza in questo caso la ruota rimane ferma quindi in realtà non si verificano condizioni di moto il caso 2 fa riferimento alla situazione in cui la forza di trazione eguaglia o supera le resistenze al moto e contemporaneamente supera l'aderenza massima mobilitabile al contatto tra pneumatico e superficie stradale questa situazione dà luogo a uno slittamento sostanzialmente la ruota comincia a ruotare intorno al proprio asse intorno al proprio centro che rimane fermo il terzo caso che è quello diciamo di maggiore interesse e che dà luogo al movimento vero e proprio della ruota sulla superficie stradale è il caso 3 corrispondente alla condizione secondo cui la forza di trazione eguaglia o supera le resistenze che si oppongono al moto ma si mantiene inferiore o al più uguale alla forza di aderenza il caso 3 determina l'effettivo rotolamento con C centro istantaneo di rotazione come già peraltro prima evidenziato oltre all'equilibrio dinamico della ruota motrice è necessario anche studiare l'equilibrio dinamico della ruota frenata ovvero quando sulla ruota agisce la coppia frenante impartita dal sistema frenante a bordo del veicolo lo schema delle forze cambia ovviamente viene meno la coppia motrice alla coppia di attrito ai perni si somma la coppia frenante mentre lo schema delle forze vede agire la forza di inerzia concentrata nel punto O le resistenze al moto e la forza di aderenza che agisce in senso opposto rispetto al caso precedente P con A rimane inalterato e ha lo stesso significato ovviamente della grandezza vista in precedenza anche in questo caso si possono verificare diverse situazioni queste situazioni dipendono dal valore relativo della coppia frenante e della coppia di attrito ai perni rispetto all'aderenza in particolare quando si verifica la situazione indicata dalla relazione raffigurata sullo schermo e cioè il rapporto tra la coppia di attrito ai perni e la coppia frenante diviso il raggio eccede la forza di aderenza ecco che si verifica lo slittamento la ruota avanza sulla superficie stradale senza rotolare l'altra situazione di effettivo rotolamento sia quando invece il rapporto prima introdotto risulta minore o uguale ad a concludo questa seconda parte della lezione questo secondo argomento con un ulteriore spunto di riflessione vi chiedo di schematizzare il sistema di forze agenti su una ruota trainata ripilogo quindi gli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso della lezione il primo derivare la forza di aderenza mobilitabile in senso trasversale per un pneumatico in modo su un piano viabile noto il coefficiente di aderenza F con A e il coefficiente di aderenza longitudinale F con L secondo spunto di riflessione schematizzare il sistema di forze agenti su una ruota trainata la lezione finisce qui ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che tutto il materiale didattico di supporto lo potete trovare nella sezione dedicata al corso sul sito web Uninet1